E' uscita la polizia locale a fare delle verifiche e ha riscontrato nelle ultime due verifiche che sono state fatte appunto delle locazioni che non erano regolari. Controlli incrociati sono scattati nelle località turistiche della provincia per la verifica della regolarità degli affitti di case o appartamenti per le vacanze. Ad Alleghe in questi giorni sono stati scovati i primi furbetti che avevano messo sul mercato le loro proprietà come casa vacanza senza avere presentato l'apposita iscrizione all'anagrafe regionale delle strutture ricettive, senza versare l'imposta di soggiorno e senza la segnalazione telematica alla questura prevista dal decreto sicurezza. Il caso di Alleghe non è isolato, precisa il primo cittadino che è anche consigliere provinciale con delega al turismo. Non è un caso isolato, si era verificato già in altre comune, ma il principio è questo. Ci sono tante persone oneste, corrette, che seguono le procedure che sono state indicate a livello regionale, a livello anche nazionale per quanto riguarda la segnalazione e le comunicazioni alla Polizia di Stato. Non vedo perché ci devono essere dei furbi che vogliono bypassare queste norme. Nella fattispecie ad Alleghe gli accertamenti incrociati hanno riguardato la totalità delle strutture ricettive, hotel, bed and breakfast, case, vacanze, rifugi. Per ora tre i casi di affitti abusivi rilevati dalla Polizia Locale del Comune. In provincia, nell'ultimo rilevamento statistico della Regione Veneto del 2018, risultano 408 alberghi e poco più di 10.800 esercizi extraalberghieri, all'interno dei quali ricadono anche le locazioni turistiche. Io mi auguro di non trovare altri casi come quelli che abbiamo rilevato, sarebbe spiacevole. Non è corretto, non è giusto nei confronti di chi segue le norme e si attiene alle norme.